Assessore Pepe, il piano di sviluppo rurale 2014-2020, oggi viene presentato alla stampa, quali sono le novità, i numeri più interessanti? I numeri più interessanti sono che in questi anni abbiamo impiegato tutte le risorse messe a bando negli anni di programmazione, soprattutto per quanto riguarda il 2018 abbiamo evitato ampiamente il disimpegno e quindi la restituzione dei fondi a Bruxelles. Per anni si è scritto tanto su questo tema, sulla restituzione dei fondi a Bruxelles, noi per quanto riguarda il settore agricoltura nulla abbiamo restituito a Bruxelles, anzi siamo andati oltre. Oggi presentiamo lo stato dell'arte del PSR 14-20 che nel frattempo ha avuto anche la vicenda terremoto da governare e da gestire, abbiamo avuto 46 milioni di euro in più da erogare presso le comunità terremotate e su questi temi c'è stato un impegno forte del Dipartimento delle organizzazioni professionali e soprattutto dei portatori di interesse. Un grande risultato per l'agricoltura abruzzese che ha tanto bisogno di queste risorse e considerate anche risultati positivi, pensate 2015-2017 l'agricoltura abruzzese, il PIL agricolo abruzzese è aumentato del 9%. Per quanto riguarda le aree terremotate siamo intervenuti con strumenti emergenziali, con la messa in campo di oltre 250 strutture mobili, stalle, finili, magazzini, casette per gli allevatori soprattutto e poi abbiamo erogato oltre 6 milioni di euro agli allevatori delle montagne terremotate. Questi contributi e queste strutture hanno consentito di evitare delocalizzazione e chiusure di aziende agricole e poi adesso con il fondo di solidarietà 46 milioni di euro erogato dalle altre regioni italiane stiamo insistendo e stiamo aiutando le imprese a investire ulteriormente in quei territori così difficili.